Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e come ben saprete ormai siamo nel pieno del team of the year perciò non potevo non farvi un video per diciamo aiutarvi a sfruttare adeguatamente questa squadra dell'anno comunque diciamo che il market crash ha creato non pochi dubbi soprattutto a chi come me pensava di acquistare i super giocatori tipo Zlatan Ibrahimovic, Suarez e altri giocatori di questo calibro perché questi invece di scendere sono addirittura saliti e quindi non c'è stato per nulla un vero e proprio market crash soprattutto il giorno in cui sono usciti i primi team of the year cioè i difensori e il portiere mentre per quanto riguarda diciamo i giocatori di fascia medio bassa o comunque anche medio alta diciamo come per esempio Starridge, Tevez, Pogba e gli Argento sono scesi davvero di molto e comunque il market crash si è effettivamente verificato per questi tipo di giocatori infatti ho dovuto variare gli investimenti visto che i giocatori top player non sono scesi di prezzo ho dovuto investire su qualcos'altro perché comunque il team of the year è sempre bene sfruttarlo anche per altri tipi di giocatori infatti ho investito su degli Argento e su degli Leaf davvero molto interessanti che probabilmente vi presenterò comunque vi dico subito alcuni nomi partendo dagli Argento come ben saprete ragazzi soprattutto se conoscete il campionato della serie A i terzini Argento sono davvero molto costosi io mi riferisco sicuramente ad Abate e Armero e sono riuscito ad aggiungere i Carmeli questi due ottimi giocatori a un prezzo davvero molto buono secondo me visto che comunque quando risaliranno i prezzi potranno essere rivenduti a molto di più e come tutti sappiamo gli Argento valgono davvero molto perché sono baggati e molto forti quindi se volete provare a fare un tipo di compravento su questi giocatori io ve lo consiglio perché costano poco al momento e si potrebbero diciamo acquistare un numero molto elevato di questi e poi farci una specie di price fixing altri giocatori che ho acquistato sono degli Leaf ossia un Leaf che mi è parso davvero incredibile è Felipe Melo in forma visto che ha delle stats davvero incredibili sono riuscito a portarmelo a casa più o meno a 20.000 credit nonostante faccia parte di un campionato come la Turkish League che diciamo non è utilizzatissimo a parte le super squadre con Emenike eccetera molto consigliato visto che si potrebbe benissimo mettere una squadra brasiliana come vi farò vedere molto più avanti e quindi secondo me Felipe Melo se comunque vi apprezzate questo tipo di giocatore o vi può essere utile è davvero molto buono perché a 20.000 secondo me è davvero un affare altra cosa su cui vi consiglio di investire naturalmente sono i giocatori di fascia bassa come Tevez, Starage eccetera tutti quelli lì praticamente perché adesso sono davvero a pochissimi K e diciamo comunque ci guadagnate se li comprate adesso e li rivendete successivamente mentre per quanto riguarda i giocatori costosi tipo Ibra, Suarez o degli IF molto consistenti di prezzo per il momento non vi consiglio di acquistarli quando acquistarli in teoria forse con l'uscita degli attaccanti le cose potrebbero sistemarsi ossia i prezzi dei giocatori molto costosi potrebbero finalmente scendere per permetterci di fare comunque i nostri acquisti dei top player e magari riuscire a comprare il giocatore che volevo acquistare lunedì quindi ragazzi spero che vi sia stato utile questo mio veloce video delucidativo su come comportarvi durante questi team of the year che diciamo ci hanno abbastanza sorpreso soprattutto quelli che volevano acquistare dei giocatori molto costosi ma comunque diciamo che il market crash si è effettivamente verificato e ci potete guadagnare ragazzi il mio consiglio è sempre comunque di cercare di investire sempre con saggezza detto questo ciao a tutti ragazzi e al prossimo video